Io credo che Giorgia Meloni sia caduta perfettamente nella trappola di Salvini. Salvini della Russia non interessa veramente niente nel merito. Gli interessa dimostrare che ci sono due centrodestra, che c'è un'alternativa a Fratelli d'Italia e soprattutto ha interesse dimostrare che Giorgia Meloni non ha il pieno controllo della sua maggioranza, che la Lega conserva una sua identità. Lo fa su un tema che non credo muova particolari consensi perché non intercetta neanche i cosiddetti pacifisti, quelli che vogliono la resa a Putin per far finire la guerra. Però ha dimostrato che c'è questa spaccatura e quindi Giorgia Meloni, ribadendo il suo atlantismo, ribadendo che nella maggioranza conta solo quello che si vota, quindi conta solo il provvedimento, di fatto ha certificato che lei non riesce a controllare più di tanto Salvini. Ovviamente l'abbiamo visto nel servizio, l'opposizione col Partito Democratico ci si infila subito dentro, anche se probabilmente le stesse domande fatte ai leader dell'opposizione, cioè a Elie Schlein e a Giuseppe Conte avrebbero prodotto le stesse sfumature, diciamo così. Quindi è una mossa puramente tattica, non avrà nessuna ripercussione europea al Consiglio europeo, dove si discute di cose un po' più serie, cioè il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha detto che bisogna preparare la guerra per assicurarsi la pace. Fortunatamente Charles Michel non ha nessuna credibilità in Europa in questo momento, quindi quello che dice lui non conta niente, ma si sta veramente lavorando sul cercare di dare un messaggio a Putin che l'Europa è disposta a fare di tutto e che quindi gli sforzi russi saranno neutralizzati. E quindi tu dici giustamente in qualche modo si sta provando a preparare l'opinione pubblica europea a un'ipotesi di intervento militare anche di soldati dell'Europa. Io credo che il parallelo sia, ricordate, la crisi dell'euro. La crisi dell'euro si è fermata quando Mario Draghi ha detto faremo tutto il necessario per salvare l'euro. Poi non ha fatto tutto il necessario, non c'è stato bisogno di farlo. Se invece si continuava a dire faremo un pezzettino, però se succede una cosa ne facciamo un altro. Il tentativo che ha cercato di fare Macron in maniera maldestra è stato di dire l'Europa è pronta a fare di tutto, anche a mandare i soldati se serve. Putin sta spremendo la sua economia come un limone per sostenere un altro anno di guerra. non potrà farlo a lungo. La Russia spende un terzo della spesa militare europea, quindi non può farlo per sempre. Se uno dice a Putin che tutto quello che fa non servirà a niente perché noi siamo disposti a fare qualunque cosa, la speranza è che Putin capisca il messaggio. Quindi tu dici che Putin comunque deve sapere che l'ipotesi, anche solo l'ipotesi o la minaccia di mandare anche dei militari francesi in questo caso e non solo, può essere un deterrente. Terra Nova, il tentativo, Meloni diciamo in tutti questi giorni, lo possiamo risentire, sulla vicenda russa ha provato ogni giorno a puntellare la linea atlantista del governo, anche se aveva vicino un alleato che mentre lei diceva una cosa, subito lui ne diceva un'altra. Sentite Meloni su.